Ok piccolini, la pausa è finita, forza dai tornate in biblioteca e fate un bel riassunto del libro che avete letto ieri, ok? Ehi tesoro, che ti prende? Perché rimani sotto quest'albero? Forse non l'ho detto abbastanza forte, ma la pausa è finita, devi tornare in biblioteca. Ehi tesoro, che ti prende? Per caso hai sonno? No? E allora perché rimani sotto quest'albero? Oh ma tesoro, non devi sentirti triste, qualcuno ti adotterà prima o poi. Dai, vieni tra le braccia di mammina. Ecco qua, ecco qua, va tutto bene tesoro, va tutto bene. Ma certo, tu puoi abbracciarmi quante volte ti pare. Dai, dai. Ora, vuoi dire a mammina perché volevi restare qui? Sì, ormai sono anni che questo orfanotrofio ha avuto la benedizione di averti. Però non ci pensare troppo, ok? Dai, che dici, torniamo dentro? Se vuoi ti faccio compagnia per la lettura, scegliamo un libro insieme, che dici? Sì, ok. Dai, sbrighiamoci, poi gli altri si preoccupano, eh? Allora, che cosa volevi leggere? Oh, è un bel libro, sì. Ed è perfetto per un adorabile tesoro come te. Eh? Qual è il problema? Oh, qualcuno l'ha messo in uno scaffale troppo alto. Ci penso io. Preso. Ecco a te. Uh, ed è anche un bel libro, con tanti bei disegni. Vuoi che mammina lo legga per te? Sto scherzando, so che sei perfettamente in grado di leggere. Dai. Comunque, ecco il tuo cuscino personale. E tutti gli snack sono nell'altra stanza, per cui non devi preoccuparti. Oh, è un tesoro davvero adorabile. Ma non so se potrei, insomma, l'adozione. E se in realtà volesse una mamma e un papà? E come farei io? Sono sola. Nessuno mi vuole. Oh, non lo so, però è così adorabile. Oh. Chissà, forse potrei... Potrei dirglielo. Che cosa c'è? Oh, hai finito di leggere? Bene, ottimo. Beh, sembra che l'attività di lettura sia finita, per cui penso che debba tornare nel tuo dormitorio. Oh, ma non preoccuparti, ci rivedremo a cena. Che c'è, tesoro? Perché sembri triste? Oh, non vuoi separarti da mammina? Però, lo sai, lo staff non può accedere ai dormitori, se non per casi di emergenza. Oh, ho sentito bene? Tu vorresti farti adottare da me? Oh, sei un angiuletto adorabile. Sai, in realtà anche mammina ci ha pensato, per cui se vuoi posso finire di firmare i documenti e ufficializzare. Significherebbe che diventerei davvero tua madre. Beh, che ne dici? Fantastico. Allora va a preparare le tue cose, io vado a firmare gli ultimi documenti. Ti aspetterò qui. A dopo. Bene, siamo arrivati. Casa dolce nuova casa. Eccoci qua. Perché ti sto abbracciando? Perché non hai idea da quanto tempo volessi adottarti? È da un sacco che volevo essere madre. E tu sei adorabile, sei così speciale. Non potevo sopportare l'idea ogni giorno di tornare a casa tutta sola, senza poterti vedere neanche per un momento. E prima che tu possa dire qualcosa, siamo soli. Siamo soli e te oggi. Beh, in realtà, penso che lo saremmo per un po', ecco. Sembro eccitata, eh? Beh, sai, è il dovere di una madre prendersi cura del proprio tesoro. Come te. Per cui, quale modo migliore per darti il benvenuto, se non in questo modo, con tanti bacini... Tanti bacini sulle tue guanciotte adorabili. Oh, come fai ad essere così adorabile? Tu... Tu meriti tanto dalla vita. E meriti tanto amore. Non dubitarne. Per cui non farò altro che viziarti e spupazzarti. Comunque, per prima cosa, togliamoti questa giacca e queste scarpe, ok? Devono essere così scomode. Ma che razza di orfanotrofi dovrebbe permettere un dress coding del genere? Ah, sì, certo, la cena è già pronta. Però è meglio se aspettiamo che si raffreddi un po', ok? Solo un pochino. Oh, ma certo che ho preparato tutto io, tesoro. Che ti aspettavi, eh? Dai, l'hai detto tu, no? Volevi che diventassi la tua mammina. E così è stato. Adorabile pasticcino. Ti voglio tanto, tanto bene. Dai, andiamo sul divano? Voglio spupazzarti ancora un po', eh? Oh, che mamma appiccicosa che sono. Cosa c'è, tesoro? Certo che ti terrò per mano. Senza ombra di dubbio. Voglio occuparmi per tutto il tempo di te. Adoro quel sorriso che hai sul viso. Vorrei tanto che ce l'avessi così stampato sulla faccia. Sempre. E cercherò di farlo. Sarà realtà. Ora, che dici se ti faccio un bel massaggino, eh? Deve essere stata una giornata particolarmente... Sì, insomma... Strana per te. Oh, certo che puoi poggiare la testa sul mio petto. E il tuo nuovo cuscino, hm? Se sei triste, se hai voglia di piangere... Vieni qua. Ok? Oh, ho aspettato così tanto tempo per questo momento che... Voglio godermelo appieno. Odore? Ah, parli del mio profumo. E ha la menta. Lo so che ti piace. Sono io che lo porto all'orfanotrofia ogni volta. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Come ti senti ora, eh? Le mie mani ti stanno rilassando, tesoruccio. Oh, significa tanto per me. Ma penso sia arrivata l'ora di cenare, ok? No, no, tu aspettami qui. Ci penso io, ok? Porterò direttamente il tavolo. Non preoccuparti. Mamma è forte! Rieccomi, tesoro! Scusa, ci ho messo un po' di più, ma... Come puoi vedere, è un po' complicato portare tutto. Certo che ho portato tutto in un solo viaggio. Non vedi? Ah, i vantaggi di essere una donna ragno. Posso portare tante cose. Dai, fammi sedere. Dai, fammi sedere. E lascio che ti bacio ancora una volta le guanciotte. Dai, mangiamo, ok? E poi mi direi che te ne pare. Era buono? Perfetto. Ma non quanto te. No, 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 signore. Ora che siamo entrambi pieni, con le pance piene piene di cibo, cosa ti andrebbe di fare? Sai, è un po' tardi, in effetti. Forse è il momento di farti vedere camera tua. Non è ancora pronta, ma in realtà c'è già il letto, eh. Che ti prende? Oh, certo. È passato tanto tempo dall'ultima volta che hai dormito... Beh... In piena privacy. Certo, lo capisco. E quindi hai paura? Capisco. Senti. Per stanotte puoi dormire con me, ok? Ma da domani... Da domani inizieremo a preparare camera tua. Ti meriti un po' di privacy. Va bene? E capirai che non c'è nulla di male. Bene, allora andiamo in camera mia? Oh, sei così adorabile con quel pigiama! Oh, adorabile! Adesso mi cambio io, ok? Ci metterò un minuto. Un papà? Perché non c'è un papà, eh? Bella domanda, perché non c'è un papà. Sì, immagino... Senti, quelle persone dicono sempre che una vera famiglia sia composta da una mamma, un papà e dei bambini. Ma in realtà non è sempre così. Una famiglia è composta da persone che si vogliono bene. E questo è l'importante. Sì, certo, vorrei tanto avere... Ehm... Vorrei tanto conoscere qualcuno che potrebbe diventare il tuo papà o la tua mamma. Non è un problema, il problema è trovarla con la persona. Vedi, quando si ama qualcuno, quando gli si vuole bene, tu vuoi che sia l'ideale per te. Che rispetti i tuoi limiti, che ti voglia bene per quello che sei e che ci sia fiducia. E non sempre è possibile. Ma io mi ci sto impegnando. Eh? Cos... No! No, 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 non era quello che intendevo. Certo, tu mi vuoi bene, ma non come si vorrebbero bene una mamma e un papà insieme. Io ti voglio bene, ma come una mamma. Ma tu stai parlando di amore. Sì, alla fine il volersi bene e amare non sono così diversi. Però tu devi volere bene a me. E amare un'altra persona. Ma ricorda, tesoro, questa persona deve rispettare i tuoi limiti, deve volerti tanto bene e deve piacerle, o piacergli, ogni parte di te. Ok? E poi non temere, se ci sarà mai un altro papà o un'altra mamma in questa casa, mi assicurerò che ti voglia tanto bene. Se no, possiamo stare soli, io e te. L'importante è questo, volersi tanto bene come io voglio bene a queste guanciotte. Ok, dai, sotto le coperte, su. È l'ora di andare a nanna da Morfeo. Buonanotte, tesoro. Dormi bene, ok? Sarà un cambio di vita. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Grazie a tutti